Il nostro consueto buongiorno con la rassegna stampa, ben ritrovati, siamo qui per vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo giovedì 25 luglio. Come sempre daremo un'occhiata alle varie prime pagine per scoprire attraverso i titoli in primo piano quali sono le anticipazioni sui temi caldi, sugli argomenti principali di oggi. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dalla Quotidiano alla Sicilia, una ricca prima pagina con tanti temi affrontati, libertà di parola, questo l'appello lanciato dal presidente Mattarella che si rivolge ai giornalisti, ogni atto contro la libera informazione è un atto eversivo contro la Repubblica. Queste le parole del capo dello Stato. E poi l'emergenza siccità con l'acqua che in Sicilia resta un miraggio cocina per i dissalatori 18 mesi, Salvini parla di una emergenza nazionale, scontro sui ritardi. Rubata intanto una cisterna da 10.000 litri a Mineo, i carabinieri dicono che cosa di routine. E poi ZES Sud, la rabbia delle imprese, ora nuovi fondi per la misura, oggi Fitto riferisce alla Camera, spazio anche allo sport, le Olimpiadi, Sinner purtroppo deve rinunciare ai giochi a causa di una tonsillite. La cronaca, mafia in ombra, 23 arresti, il nuovo capo della Cosca era un imprenditore, blitz da parte della polizia a Catania, un'importante operazione antimafia. E poi il giallo di Fondachello impiccata col fular, c'è la pista dell'omicidio, oggi l'autopsia decisiva. In taglio laterale, premierato e stampa, allarme europeo sull'Italia, lo Stato di diritto è a forte rischio. E poi giustizia, CSM, la laica Anatoli non vuole dimettersi, l'associazione nazionale magistrati inadeguata al ruolo ricoperto. In taglio alto, Confagricoltura e FEA segnano le spighe d'oro ai comuni rurali virtuosi, in Sicilia c'è soltanto Ragusa. Giro delle città partendo da Catania, adesso ti uccido preso un marito violento, a bel passo la videosorveglianza invece incastra 21 zozzoni, 21 sporcaccioni, Bronte, reparto di medicina ridotti posti letto e poi le parole a Taormina del sindaco Cateno De Luca che annuncia il comune è fuori dal dissesto. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, lasciamo il quotidiano alla Sicilia, questa è la prima pagina della giornale di Sicilia, vediamo quali sono gli argomenti in primo piano, rap senza soldi, città sporca, notizia che riguarda Palermo, esaurito il budget per pagare il doppio turno ai lavoratori, l'azienda arranca in attesa di assumere 106 operatori ecologici e le discariche a cielo aperto intanto si accumulano. Le parole del sindaco Roberto Lagalla, aderisco alla campagna per sensibilizzare i cittadini. Ancora Palermo, buche da lunedì, lavori in via Roma e poi allarme legionella ai cantieri culturali, salvo il concerto di stasera di Calcutta, già attivata la bonifica, il virus vedete nei bagni. Sciacca, bancarotta di Torre Macauda, scatta un maxisequestro, si parla di un'operazione della Guardia di Finanza e poi anche sul giornale di Sicilia il monito del Presidente della Repubblica, Mattarella, sono eversivi, ha dichiarato gli atti contro l'informazione. Altre notizie in prima pagina sul giornale di Sicilia, Mazzara del Vallo sei indagati per il covo di Mazzara del Boss, il Boss ovvero Matteo Messina Denaro. E poi dal 3 al 6 ottobre trofeo Coni a Palermo solo le gare all'aperto. Il report Istat, deserto Sicilia in pochi anni, pensate più vecchi e meno giovani. Andiamo in taglio alto, la notizia che nessuno ovviamente voleva ricevere, Parigi 2024, dunque giochi olimpici, Sinder sta male e quindi per lui un addio amaro alle Olimpiadi. E poi Selinunte, un'estate ricca di teatro, danza e tanta musica, dunque gli appuntamenti in programma, poi l'approfondimento all'interno della giornale di Sicilia. L'Europa mette Roma invece nel mirino, su premierato e abuso d'ufficio il Governo invece parla di costante dialogo. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, restiamo nell'isola con la prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta del Sud. In primo piano l'emergenza siccità, una siccità vedete in Sicilia oscurata nel mondo, la Sicilia oscurata nel mondo a causa proprio della siccità. L'emergenza infatti è stata raccontata tra gli altri organi di stampa internazionali anche dal New York Times e ora si temono danni anche al turismo perché è una notizia che ha fatto il giro del mondo e questo certamente può spaventare i turisti che avevano scelto eventualmente come meta la nostra isola. Messina invece può recuperare il 50% dell'acqua persa ma si prepara ad altri disagi. 30 milioni di euro per la bonifica della discarica assegnati a Mazzarà Sant'Andrea i fondi del PNRR. E poi premierato e media, l'Europa richiama Roma, anche lo stop all'abuso d'ufficio nel mirino del rapporto sullo Stato di diritto della Commissione, la riforma della giustizia frena delle indagini sulla corruzione, rischi per la libertà di stampa. Questo ci dice appunto questo rapporto europeo che riguarda proprio l'Italia. Lasciamo la Gazzetta del Sud, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica, anche qui tra i temi in primissimo piano c'è l'emergenza siccità, la grande sete in prima pagina. Come detto la notizia, o meglio la situazione che sta vivendo la Sicilia con questa grave crisi idrica ha fatto ormai il giro del mondo, vedete dall'Europa agli Stati Uniti, dopo il Guardian, pure CNN e New York Times raccontano la crisi e ovviamente preoccupati gli albergatori così ci danneggiano. Metà degli invasi è a secco, mentre il 20% delle dighe è destinato a sparire entro luglio. Oggi si decide sul razionamento, intanto legionella ai cantieri della Zisa. Dunque situazione sempre più preoccupante, ne ha parlato il ministro Lollobrigida, ieri ne ha parlato anche Matteo Salvini, parlando giustamente di un problema nazionale che non riguarda soltanto la Sicilia ma è un problema di tutta l'Italia, ovviamente quello dell'emergenza idrica nell'isola. Vedremo se a breve ci saranno soluzioni, ma all'orizzonte non si vede nulla di positivo. Il dossier La Costa del Mare negato, tra cancelli chiusi e ville dei mafiosi in stato di abbandono, si parla in questo caso del Golfo di Carini, Marina Longa. L'unico chilometro di mare pulito è al centro di un lunghissimo contenzioso tra i privati del Residence, scrive Repubblica Palermo. L'intervista a Midiri che festeggia i successi dell'Ateneo, sguardo verso lavoro e futuro e poi weekend di musica da Annalisa Calcutta, l'estate siciliana dei big del pop. E a proposito di big, non parliamo in questo caso di musica, ma di sport, giochi olimpici. Sono 16 i siciliani a caccia di medaglie e l'isola in gara sotto la Tour Eiffel. Dunque in bocca al lupo agli atleti azzurri in generale ovviamente, ma soprattutto agli atleti siciliani. Andiamo avanti, lasciamo Repubblica Palermo, restiamo però sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale. Le parole di Mattarella su Casa Pound, Eversivo, attaccare l'informazione, queste le parole del Capo dello Stato. E poi la grande sete in Italia con il Sud lasciato a secco. Nell'anno più caldo di sempre scoppia l'emergenza acqua. In Sicilia i serbatoi sono vuoti e si va verso il razionamento. Allarme di Coldiretti, la siccità è già costata al mezzogiorno oltre 4 miliardi di euro, persi 33 mila posti di lavoro. Sono numeri davvero pesantissimi. Liste d'attesa e legge Elie Schlein contro il governo, così privatizzate la sanità. Questo ha dichiarato la leader del PD Elie Schlein. Andiamo avanti, da Repubblica alla prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui le parole di Mattarella, un vero e proprio richiamo, vedete, del Colle, Eversivo, gli atti contro la stampa. Così Mattarella alla cerimonia della consegna del ventaglio e al Parlamento va eletto il giudice della consulta. E poi, purtroppo, Yannick Sinner, fermato da una tonsillite, la tristezza del campione azzurro, della tennista numero uno al mondo, salto i giochi. Questo il suo annuncio. Le parole invece di Joe Biden. Ora resto al comando. Il ritiro per il bene dell'America, ha dichiarato Joe Biden dopo aver annunciato nei giorni scorsi il suo ritiro alla Corsa verso la Casa Bianca. La prima pagina del quotidiano La Stampa. Anche qui le parole del presidente Mattarella, Eversivi, gli atti contro La Stampa. Richiamo di Mattarella dopo l'aggressione di Torino. Il giornalismo è documentare senza sconti. Così il presidente alla cerimonia del ventaglio sprona il governo su consulta e sovraffollamento nei penitenziari. E poi l'altra notizia di giornata. Si parla sì di sport, ma è una notizia purtroppo triste. Le ombre di Sinner. Una tonsillite ferma il numero uno del tennis. E dunque, come abbiamo visto, Yannick Sinner non sarà ai giochi olimpici. Lui che ovviamente avrebbe avuto grandi possibilità di mettersi al collo la medaglia d'oro. Dalla quotidiano La Stampa alla prima pagina del giornale. Andiamo a vedere quali sono i temi in primissimo piano. Questa mattina il salva casa e legge. Cosa cambia per i proprietari? Entrano in vigore le nuove norme. E anche per quanto riguarda la salute, dunque la sanità, via libera al DL liste d'attesa. Occupazione e PNRR. Boom di entrate per lo Stato. Non servirà la manovra bis. Netanyahu al congresso degli Stati Uniti, ma la sinistra Dem diserta. Assente anche la candidata Dem Kamala Harris. E poi il tennis, o meglio i giochi olimpici. Maledizione Sinner. Malato salta i giochi. Come detto, una tonsillite lo costringerà a saltare questa importante manifestazione. Dal giornale al Fatto Quotidiano, questo l'argomento di apertura, pusher, ladri e tangentari, tutti fuori dopo 60 giorni, lodo, toti, Forza Italia vuole un tetto alla custodia cautelare, mai più casi Liguria. Sempre più impunità, scrive il Fatto Quotidiano, carcere e domiciliari non oltre due mesi, così i nuovi reati saranno assicurati. Questa dunque la notizia di apertura da parte del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti, ci spostiamo sulla prima pagina del messaggero. Si parla invece di sanità, liste d'attesa, taglio per legge. Sanità, approvata la riforma, straordinari detassati e studi aperti di sera per smaltire l'arretrato. L'intervista a Schillaci, compensi aumentati, ora i sanitari accettino in arrivo infermieri dall'India. Piazze di spaccio, guardate un po', in trasferta al mare per seguire i clienti. L'antimafia svela i movimenti dei narcos da Torbella Monica e Ostia alle zone di vacanza. Vedete, non vanno in vacanza, ecco gli spacciatori che addirittura seguono in trasferta i loro clienti, se così possono essere definiti. La prima pagina di Libero, la patacca europea, il trucchetto pubblicato, il dossier europeo che bastona l'Italia su riforme e informazione, le fonti dello studio, ONG, toghe rosse e l'ANAC in mano all'opposizione. Intanto l'APD rifiuta di scusarsi col consigliere leghista, aggredito da uno dei loro. In attaglio centrale osa criticare Kamala Harris, Rampini finisce all'aggogna, pioggia di insulti sul giornalista dall'elite anti-Trump. E poi la caso Liguria vincono i PM, Toti adesso pensa alle dimissioni, Toti costretto ai domiciliari, lo ricordiamo dal 7 maggio, il governatore verso il passo indietro, contrari partiti che vorrebbero invece allontanare il voto. Parliamo di sport, andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani, partiamo dalla gazzetta dello sport, calcio e mercato ovviamente in primo piano, ma purtroppo anche l'annuncio di Sinner. E allora il titolo vedete della gazzetta è Giochi proibiti, il numero uno del tennis si arrende alla tonsillite, sconvolgente, i medici mi hanno fermato. E quindi ci dispiace chiaramente per Sinner, ma bisognerà adesso pensare ai prossimi obiettivi. Juve di lusso, Sule alla Roma, assalto a Todiboi e Copmeiners, in partenza anche Juicen, ci sono i soldi per realizzare due supercolpi chiesti da Marotta. Dunque Juve scatenata sul mercato, dopo la cessione di Sule adesso potrebbero, vedete, arrivare altri due rinforzi per il nuovo allenatore bianconero. Il Corriere dello Sport ce l'hai fatta, Mattias, trattativa in chiusura, 26 milioni più 4 alla Juve, su Le si prende la Roma, rilancio adesso per Sorloft, dunque il giovane talento quasi ex bianconero, pronto adesso a vestire la maglia della Roma. Chiudiamo con tutto sport, anche qui il titolo su Sinner e Giochi proibiti, una tonsillite mette K.O. Jannik, grandissima delusione, ovviamente ha dichiarato Sinner, così come sono delusi, amareggiati anche tutti i tifosi italiani, che amano questo grande protagonista dello sport. Niente Copp, c'è la giuntolata, per Copp si intende ovviamente Copmeiner, l'Atalanta continua a fare muro per l'olandese, allora la Juve trova un'alternativa, si tratta di Acliouche del Monaco, speriamo ovviamente che la pronuncia sia proprio questa, ma ormai arrivano talmente tanti stranieri nel calcio italiano che diventa veramente spesso complicato pronunciare questi nomi. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa odierna, ovviamente l'informazione non si ferma, ma prosegue sui nostri canali lungo tutto questo giovedì, e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi, a più tardi. a più tardi.